Visita a un'azienda marchigiana di altissimo livello, prodotti dell'alta moda, fatti per i marchi più importanti per il mondo, una grandissima nuova verità, una grande competenza, un made in Italy vero, fatto da persone che addirittura con l'ago e il filo rifiniscono un abito di altissimo livello. La scoperta della qualità delle marche, 190 dipendenti dentro queste strutture, un'azienda che dopo 30 anni continua a crescere. La visita alle realtà manifatturierie marchigiane che sono il nostro orgoglio e ci fanno guardare avanti con fiducia. Una bellissima azienda manifatturiera della provincia di Ancona che proprio febbraio celebra 30 anni di attività, un'azienda che è sempre cresciuta nel corso di questi 30 anni e quindi da parte di Regione Marche il massimo supporto a questa azienda ma insomma a tutte quelle aziende che continuano a scommettere nel made in Italy e quindi anche nel made in Marche.